Oggi pranziamo insieme? Ma non hai tempo! Vieni con me. Non metto piede in quella casa da 15 anni. È lei. Ero il medico di Matilda. Mi ricordo del medico, sì. Ma era molto più giovane di lei. Sono anche passati 15 anni, però. E tu abiti a... Parigi. Vengo qui per ricaricarmi. Grazie, Shona. È stata un... Grazie. È andato via. Che avevi immaginato? Buongiorno, sono... sono Pierre. Buongiorno, Pierre. Ho voglia di te. Mamma, hai conosciuto qualcuno? Non ero con i miei colleghi, Sean. Non lo voglio sapere. Sto per compiere 71 anni. Chi è? Shona Losisky. È una donna anziana. Shona è come una madre per me. Perché mi fai questo? Non sconvolgerai la tua vita per una donna che non ha futuro. Non ha senso, Pierre. sconvolgerà la tua situazione. Guardаю il video che mi fai così... Maginà che mi fai sì... A presto. Grazie a tutti.